si ragazzi è capitato anche qua positivo mi scuso per la voce è un video che comunque non volevo fare però lo faccio giusto per informarvi comunque non ho avuto tempo questa settimana di lavorare di montare qualcosa per il canale lo faccio adesso con non poca difficoltà spero settimana prossima di recuperare le forze la voce e le energie comunque ragazzi facendola breve mi sono buscato il covid sono vaccinato e tutto quindi penso di averlo fatto anche abbastanza lieve no lievissimo però ragazzi quindi niente vi ringrazio mettete un mi piace per darmi forza e alla prossima ciao 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 Grazie per la visione!